Buongiorno a tutti. E finalmente ce l'abbiamo fatta, mia caro Alan, ce l'abbiamo fatta ad arrivare a ottobre. Eh beh sì, d'altra parte insomma i giorni camminano, quindi siamo già a ottobre, starà un attimo ad arrivare a Natale, lo sai. Ammazza, già a Natale sei? Eh beh sì, vuoi arrivare ad Halloween, beh prima c'è Halloween, poi c'è Natale, poi c'è Natale, poi si arriva a Natale, sono tipo 83 giorni a Natale, una cosa del genere. Tutto sai mio caro, la brava enigmista riesce anche a contare i giorni. Sentiamo, no, volevo chiedere al nostro ospite quando ne pensavo di Natale, ma evito, evito, evito. Benvenuta Sabrina Morena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Qui in veste di direttrice artistica della, aspetta che lo dico bene, della ventiduesima, siamo arrivati alla ben ventiduesima edizione di Spaisati, eventi sul tema delle migrazioni. Eh sì, ebbene sì, siamo ormai più che maggiorenni insomma si dice, quindi... L'hai creata nel... Nel 1999-2000 è stata la prima edizione proprio e quindi è per quello che tante volte siamo sempre un po' a cavallo, qualcuno ci dice perché nel 21 è la ventiduesima, no? Cioè è un gioco di numerico. Quindi è tema di discussione questo. No, nel senso che uno si chiede perché, però è iniziato nel 99, quindi insomma fa anche impressione poi conoscere che ci sono dei giovani che sono nati nel 2000. E quindi ho dei ragazzi del 99, quindi è un po' così, però insomma siamo dall'altra anche orgogliosi perché comunque è un festival che è nato, una rassegna che è nata tanti anni, appunto più di vent'anni fa, e quando in realtà si parlava anche poco, no? Di migrazioni, ma quando l'Italia si è scoperta un paese di immigrazione, no? E mi ricordo che quella volta si parlava tantissimo, c'era molta separazione tra emigrazione e immigrazione, no? L'emigrazione italiana si parlava tantissimo, no? E invece poi allora quando nacque questo anche con l'università, il professor Todeschini di storia, insomma volevamo appunto parlare un po' di migrazione in generale e anche vedere come si assomigliano tutti i fenomeni migratori, sia l'emigrazione che l'immigrazione. Infatti all'inizio ebbe un taglio forse più storico, spaesati, più legato forse anche al cinema, insomma erano anche... Boh, è anche giusto che le cose cambino nel tempo, no? È ovvio. Anche perché adesso forse è più teatrale, ma perché ci sono anche più opere teatrali che riguardano l'argomento o che vengono fatte da... realizzate con persone, diciamo, migranti o stranieri di altre nazionalità, oppure anche realizzate da ragazzi di seconda generazione, per esempio, di migranti, no? Persone perfettamente integrate, no? Nella realtà. E quindi è molto interessante, secondo me, anche come è cambiato, no? Ci sono altri festival simili al nostro, abbiamo iniziato questo gemellaggio con Suc di Genova, che è un festival molto interessante, proprio sempre sui temi migratori. E anche a Roma c'è un altro festival, insomma, che si occupa di questi temi, quindi cominciamo ad avere anche relazioni con altre parti d'Italia. Noi a suo tempo, il femmo nascere la rete del caffè sospeso, che è una rete di festival molto più piccoli, tra Cagliari, Napoli e Riace. E infatti i nostri spettacoli furono rappresentati più volte a Riace, io vorrei veramente mandare tutta la mia più forte solidarietà a Domenico Lucano, che veramente, tra virgolette direi vittima, anche se insomma ho fiducia nella giustizia, quindi vedremo, penso che ci saranno le altre fasi. Appunto, però sinceramente questa sentenza che è arrivata mi sembra esagerata, come hanno detto tra l'altro molti opinionisti, non dico solo io, e comunque ribadisco che Riace, io ho visto un paese che è rinato grazie all'accoglienza diffusa, che ha fatto nascere comunque Domenico Lucano proprio lì, anche quando non era sindaco, tra l'altro, insomma, quindi c'è tutta una storia, una vicenda, anche un esempio di come un piccolo paese possa anche rivitalizzarsi anche grazie alle presenze degli stranieri, per cui sono state riaperte le scuole, è stata ridata ossigeno, è ricominciata un artigianato locale che si era perso. Quindi sinceramente è veramente una grande solidarietà e mi auguro che insomma si possa arrivare a un chiarimento presto e un'altra sentenza nel secondo grado di giudizio, una soluzione completa. E poi è chiaro, ho visto immediatamente che si è mossa tutta Italia rispetto a questa cosa, perché siamo rimasti tutti un po' sbalorditi e anche io l'ho visto in alcune interviste, anche stamattina ho visto una replica di un'intervista che ha fatto ieri e anche lui non sapeva cosa dire onestamente. Eh beh, anche perché è una persona, io appunto sono stata a Riace e anzi tra l'altro anche Domenico Lucano è stato ospite a Spaisati una o più volte e devo dirvi la verità, è una persona comune che non si è per niente arricchita, anzi è povero, cioè è una persona sì di grande notorietà se vogliamo, perché chiaramente Riace è arrivato Wim Wenders, comunque ha avuto un eco internazionale, l'esempio, il modello se vogliamo, quindi però è una persona veramente come le altre, in una terra tra l'altro, la Locride comunque è una terra che insomma dove si sente, si percepisce che c'è la mafia, che c'è il deserto, sia economico che culturale e che qualsiasi, io quando sono stafui lì portavo uno spettacolo, mi ricordo come diventare italiani, che tra l'altro è in programma ma era nella vecchia versione, e lì qualsiasi gesto culturale era un gesto fortissimo, perché capivi che era un gesto contro il deserto mafioso, insomma. Allora, veramente è pazzesca questa cosa, c'è un ribaltamento delle coordinate che fa impressione. C'è stato un disguido, io lo chiamerei disguido, nel senso che c'è stato qualcosa che... C'è anche una campagna elettorale, per cui insomma, non lo so, è una terra anche molto complessa, la Calabria, quindi veramente... Però posso immaginare come si possa sentire una persona, appunto una persona comune come tutte le altre, un sindaco di un piccolo paese, quindi insomma, cioè, proprio non ci si arricchisce a fare gli amministratori locali. Vabbè, comunque, proseguiamo, proseguiamo nel racconto, oggi lo racconteremo, proprio lo sfoglieremo, diciamo, nel senso che il buon Adam ha preparato un percorso anche di immagini per chi ci sta seguendo sulla nostra pagina Facebook di Radio Fragola, proprio per vedere punto per punto quelli che sono gli spettacoli. E poi Alan, adesso Sabrina, riuscirà anche a svelarci tutte queste migrazioni, diciamo, tra teatri, nel senso che si parte da qui, dal parco di San Giovanni, per poi ritornare a casa, nel senso che poi con la riapertura appunto del Teatro Miela e con la possibilità anche di usufruire del Teatro Sloveno. Però tu dicevi, c'è anche la stazione Rogers, c'è anche il Cinema Ariston. Esatto, sì, beh, sono dei... Leggevo anche sul piccolo programmino che ci è stato dato, che effettivamente in fondo c'è scritto altri eventi correlati che evidentemente si aggiungeranno durante il corso dell'anno. Sì, confesso che con il Covid spesso non è facilissimo organizzare e proprio in più, come forse ricorderanno gli spettatori, i frequentatori spaisati, noi cominciavamo sempre da dopo la Barcolana, no? Questo è il nostro... partivamo sempre da metà ottobre. Ma con la paura del Covid, che io spero che quest'anno non avremo chiusura e altro, però nell'anno scorso io mi ricordo benissimo che, pur anticipando, mi ricordo ai primi di ottobre, il tipo 24 ottobre, avevamo già chiuso, e siamo riusciti a fare due spettacoli dell'edizione della ventunesima, no? Quindi diciamo che siamo ancora segnati da questo... È ovvio. Così, abbiamo una ferita pandemica, e quindi abbiamo voluto anticipare moltissimo, cioè intanto cercare di stare in estiva, infatti abbiamo avuto alcune anteprime nel programma, che forse avrete visto, abbiamo iniziato il 28 agosto con la mostra di Mohamed Ba, poi è seguito Eroicamente Scivolato, quest'altro spettacolo, sempre al teatro Basaglia, ma in estiva, ed è anche per quello che abbiamo deciso, come dire, di dare l'annuncio dopo, perché abbiamo inteso questi due spettacoli, come spettacoli ancora estivi, che facevano parte forse di una rassegna estiva anche proprio del teatro Miela, fuori dal Miela. E poi appunto abbiamo voluto da una parte anticipare, però dall'altra abbiamo il teatro chiuso, soprattutto il teatro Miela, per lavori di riqualificazione, insomma dell'antincendio, anche delle cose buone, positive, però ci sembrava spostare tutto da novembre a un poi, ci sarebbe sembrato comunque di lasciare un po' un buco, di lasciare gli spettatori senza un'attività che normalmente c'è nel teatro, no? E in più, noi, il programma è fatto di parti nuove, ma è fatto anche tantissimo di spettacoli che dobbiamo recuperare dall'anno scorso, no? Cioè, e quindi non potevamo neanche concentrare tutto di nuovo a novembre-dicembre, sempre col rischio, col terrore che vieni di nuovo richiuso per pandemia, insomma. Quindi... Diciamo che non succederà, diciamo che ormai tutto è sotto controllo, i teatri li stanno ritornando, siamo quasi quasi ritornando alla possibilità di usufruarli al cento per cento, siamo all'ottanta, adesso vediamo... Non è passato il decreto. Lo so, lo so, ma io voglio essere molto positivo, no, anch'io, anch'io. Per due anni, ahimè, abbiamo parlato di chiusure e tanto è stato fatto, nessuno si è accorto delle difficoltà, perché i teatri hanno avuto enormi difficoltà, i lavoratori dello spettacolo sono stati massacrati e non credo che quei due o tre ristori siano serviti a molto, veramente, adesso vale veramente la pena ed è importantissimo che la gente ritorni al teatro, al cinema, ritorni a rianimare quello che è la cultura, perché senza cultura non si vive. Sì, e poi vorrei spiegare che per noi, per esempio, il fatto del Green Pass è una cosa importante, perché è lo strumento che ci permette di riaprire i luoghi della cultura e riaprire teatri e questo, appunto, fa bene, penso, agli spettatori, perché ci sono anche i diritti degli spettatori e anche tantissimo comunque a questo settore dove si lavora e dove, tra l'altro, due anni di chiusura hanno fatto sì che si perdessero tantissime maestranze. i tecnici ormai sono, tra virgolette, merce rara, dico merce perché, insomma, è un modo di dire, non è merce, ma persone, professioni che si stanno perdendo ed è pericolosissimo questo perché comunque sono i tecnici teatrali e sono fondamentali perché si possa continuare a fare teatro però molti hanno cambiato lavoro bisogna dire che molti hanno cambiato lavoro perché sono stati costretti perché non c'erano stati ristori e altre cose quindi veramente anche così faccio un appello proprio agli spettatori insomma a chi ama il teatro, la musica, i concerti anche la socialità in sé perché alla fine chi ama la socialità dal vivo perché un teatro è condivisione tu vedi insieme uno spettacolo esci, discuti, ti è piaciuto, non ti è piaciuto poi magari vai a cena, vai a bere qualcosa insomma si sta insieme faccio veramente questo appello perché le persone non li abbandonino questi luoghi non abbandonino la loro socialità che non vengano fermati da un green pass ecco insomma allora cominciamo cominciamo un po' a raccontare quello che si potrà assistere è già cominciato in realtà c'è stato uno spettacolo del 29 di settembre adesso invece 2 e 3 di ottobre cioè domani e dopodomani domani e dopodomani c'è un altro spettacolo quello che si chiama Dalla carne e dalle ossa con un sottotitolo che è nato da poco quindi non c'è nel programma che è come dire messa senza perdere la fede che è uno spettacolo è un progetto di arti fragili che è questo gruppo di giovani artisti è un progetto di Omar Giorgio Maclufi che tratta il tema della comunità e della fede ovvero la domanda che ci si pone intanto tratta il tema della comunità e quindi tratta anche un po' il tema della pandemia cioè quanto sia importante fare dei gesti per la comunità ma anche proprio il tema ed è ispirato a un romanzo spagnolo proprio di la storia di un sacerdote che si occupa della comunità ma si accorge di non avere fede allora il tema qual è è che ci si può occupare prendere cura della comunità cioè c'è bisogno della fede per prendersi cura della comunità o viceversa insomma e quindi penso che sia una tematica molto importante sono presenti adesso non voglio dire così mi metto gli occhiali per non sbagliare i nomi gli attori e coautori perché è un lavoro collettivo Filippo Capparella che è l'attore per chi l'avesse visto dello spettacolo eroicamente scivolato che veramente lui è stato è un bravissimo attore è autore che ha vinto tra l'altro numerosissimi premi Veronica Dariol e Paolo Faggioro e con la consulenza artistica di Alessandro Marinuzzi questo è uno studio quindi è una prima tappa non sarà forse lo spettacolo completo insomma comunque sappiamo che ormai tante volte si va a tappe per gli spettacoli per i lavori questa è una prima tappa su questo di studio questo argomento ed è sabato 2 ottobre alle ore 20 e 30 e domenica alle 16 e 30 al teatrino Franco e Franca Basaglia ricordatevi e aggiungo che alla fine della replica pomeridiana cioè quindi di domenica faremo un incontro con lo psichiatra Renzo Bon e era previsto dovevamo dovrebbe doveva venire Don Mario Vatt della comunità San Martino dal campo adesso capiremo se riesce a venire in video altre cose perché insomma ha un po' di problemi e Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'Ombra proprio per coordinato da Fabiana Martini e lo è interessante questo incontro che vogliamo fare dopo perché parte dello spettacolo e proprio vogliamo parlare di l'abbiamo chiamato vita e missioni e comunità cioè nel senso di come ci si può occupare appunto della comunità con quale senso con quale senso di missione con quale volontà di cura e quindi e dando valore naturalmente all'individuo alla dignità dell'individuo andiamo avanti andiamo avanti con con la programmazione magari andiamo un po' veloce nel senso dammi un po' di indicazioni nel senso che comunque il libretto si può trovare ovviamente lo trovate ovunque ma poi nel sito del Teatro Miera troviamo tutte le indicazioni c'è anche il buon Alan che sta facendo vedere il libretto in sé bellissimo come una volta fai ti ricordi come una volta non avevamo le telecamere tutte quindi andavamo una sola telecamera andavamo con questi metodi un po' spartani ma adesso veramente è bello che tu abbia fatto questo quindi comunque tutte le informazioni si trovano sul sito si poi insomma man mano troverete anche insomma vari comunicati si accompagniamo poi ci sono le pagine facebook di del del Teatro Miela di Spaisati instagram insomma abbiamo un po' tutte le twitter ormai i social aiutano in questo eh sì assolutamente giustamente ci fanno anche da promemoria perché non è sempre facile ricordarsi tutto soprattutto in un programma forse che così anche con più tappe e no beh faccio una breve carrellata ma poi scusami aggiungo una cosa poi c'è anche Radio Fragola nel senso che oltretutto quando vuoi assolutamente qualsiasi spettacolo il venerdì noi ci siamo benissimo quindi seguiremo costantemente anche noi quello che è la manifestazione ma avremo due spettacoli in ottobre eh uno è così vicino al fondo ehm e che è un di un accompagnati mestieri di Pordenone che affronta invece proprio il tema della diciamo dell'attraversamento del Mediterraneo eh da parte delle persone migranti e anche purtroppo delle morti in mare che che avvengono attraverso è un è un testo di Camille Davin che è una un'autrice eh belga che proprio insomma ha eh immagina questo il mare la difficoltà il rischio di morte e forse anche la morte attraverso eh una la presenza di tipo una dea del mare eccetera quindi insomma c'è una visione interessante eh un po' fiabesca immaginifica insomma di questa di questo dramma che che accade eh proprio per riuscire insomma anche a trasmettere questa trasmettere raccontare no che cosa vuol dire proprio umanamente no poi questa perché noi ormai siamo un po' abituati a questi numeri no un po' come le morti sul lavoro no un po' come eh i femminicidi no c'è ormai è tipo no ognuno e nessuno ha un volto nessuno ha una vicenda nessuno ha una famiglia nessuno ha un racconto no c'è tutto questo cumulo di di eventi negativi che però che riguardano persone e ogni persona bisogna ricordare che un padre una madre una famiglia dei figli magari dei nipoti dei parenti delle eh dei sogni delle aspettative eh a volte vanno tutti no no nel cumulo generale no infatti io feci a suo tempo lo spettacolo io non sono un numero sulla violenza sulle donne proprio cercando di dare un nome a queste persone raccontare le vicende tra l'altro questo spettacolo andrà a Cervignano e a e a e a Pordenone a novembre ma non insomma ritorno invece a un altro spettacolo importante che eh sempre ci sarà al teatro eh Basaglia io so che è chiamato teatrino ma io non riesco ma io non so non so perché lo chiamano teatrino questo non è una cosa strana ecco devo dire no da una parte ha una bellezza però a volte teatrino sminuisce è un bellissimo teatro uno pensa magari che non c'è mai stato dice vabbè avrà qui 40 posti è una cosa molto intima in realtà non è così ecco perché tra l'altro è un posto bello e simbolico le persone noi abbiamo appunto facendo eh scusate che divago però vai tranquillo penso che perché mi piace anche valorizzare i nostri luoghi quando abbiamo fatto case di bambole che è questo spettacolo che abbiamo fatto il 28 due giorni fa ed è uno spettacolo della compagnia Kill della Balanza che è una compagnia che opera a San Salvi a Firenze che è un ex manicomio come eh come qui e lavora lì da tantissimi anni animano questo posto con dei festival eccetera quindi eh abbiamo proprio ricordato no dopo lo spettacolo questa importanza e anche Valenza di creare questo gemellaggio no tra tra due luoghi così da una parte rinnovati no ma che hanno anche questa valenza eh anche simbolica forte e allora per questo dico che eh mi sono anche contenta di essere arrivata insomma di venire come spaesati al Teatro Basaglia primo perché ci sta benissimo come spaesamento no cioè di noi parliamo comunque di ehm di appunto di diritti umani io penso che qui eh stando proprio qui seduta nel parco di San Giovanni è avvenuta una delle più grandi rivoluzioni della storia rispetto ai diritti umani no cioè comunque il riconoscimento della dignità no del del malato psichiatrico insomma cioè che una volta prendevi buttavi via la chiave no cioè in un luogo che era chiuso no che è rinato è rinato e beh io c'ero all'epoca c'era l'età per poterlo dire c'è stata proprio una vera e propria grande rivoluzione soprattutto culturale perché veramente si è voluto dare una botta cioè a quello che era un sistema che che non andava più bene eh sì ma poi si è anche che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo esatto cioè quindi insomma è stato è una è una svolta epocale esatto cioè di per cui eh è un luogo insomma io sono molto onorata di essere qui a Radio Vragola ma di stare qui nel Parco di San Giovanni e di stare anche al Teatro Basaglia e e anche bene tra l'altro più ricordi no Teatro Basaglia è bello perché ricordi comunque il nome di Franco e Franca Basaglia insomma quindi è bello che torni nella testa delle persone e no quello che volevo dire a no a ottobre ci sarà anche quest'altro spettacolo come diventare italiani il tutorial che è uno spettacolo che è una nostra produzione è interpretato da un'attrice straordinaria come Marcella Serli io l'adoro eh appunto e quindi lei è bravissima un'amica ma soprattutto è è proprio è un'attrice anche che si sa trasformare molto e quindi qui la vedrete in una in un travestimento molto particolare e questa è una versione di questo spettacolo che uno dirà beh l'abbiamo già visto eccetera ma è uno spettacolo che ha avuto varie evoluzioni è nato come diventare italiani in 40 minuti qualcosa del genere per gli studenti Erasmus era nato così e poi nel tempo insomma l'abbiamo un po' rielaborato e questa versione che arriva a Trieste è una versione che non è mai stata vista perché è stata l'ultima versione rielaborata a Milano nel 2018 quindi è interessante perché appunto è una novità ed è nato da questo spettacolo che era un gioco sugli stereotipi eccetera una riflessione sulla nostra società sul nostro paese e sembra devo dirvi scritto in pandemia ma non ma non è stato scritto in pandemia è stato scritto prima però visto che è dentro ha una cornice dell'emergenza e chi parla è una vi dico solo questo è una come una presidentessa ci ricordo tantissimo insomma i famosi discorsi dell'emergenza di Conte eccetera quindi è veramente interessante però ed è molto diventato uno spettacolo molto divertente ma amaro e graffiante al contempo quindi vi consiglio di venire a vederlo e adesso scusate il 21 vado a memoria 21 ottobre giovedì non vedo niente 21 ottobre sempre alle 20 e 30 al teatro Franco e Franco Vadovalli bene allora nella tua perfezione magari sei utile nel dare date va bene ok poi proseguiamo ancora un po' perché poi veramente e poi torneremo al teatro Miela ecco sperando che ci venga restituito il teatro in tempo a novembre siamo al teatro Miela dove ospiteremo uno spettacolo da madre a madre questo è uno spettacolo che nasce invece al SUC al Festival SUC di Genova ed è uno spettacolo con Carla Peroleiro che è anche la direttrice artistica del SUC e un'attrice e una Bintu Watara che è una è un'attrice franco-italiana e si è ispirato all'anello debole di Nuto Revelli cioè l'anello forte parla delle donne e delle donne come anello forte però guardandole dal punto di vista delle diverse culture e poi avremo come finalmente riusciremo a fare lo spettacolo Il Vangelo delle Beatitudini di Econaida Taliente questo è uno spettacolo veramente molto forte sia per i contenuti ma molto forte anche per i contenuti per la dal punto di vista visivo ma è uno spettacolo complesso molto molto bello che è ispirato al discorso della montagna e dove però invece una parte è anche dedicata proprio sempre a Don Mario Vatta e devo dire anche questo consiglio di vederlo perché è uno spettacolo veramente forte del CSS e anche questa è una collaborazione del CSS di Udine insomma con cui lavoriamo poi apriremo invece una mostra a novembre che si chiama Aspettando in Vano questa è una collaborazione con Slovinsky Club ed è una mostra che non abbiamo voluto chiamare fotografica perché non sono solo fotografie ma anche una parte di reportage anche una parte poetica una mostra di Meta Cressè che è una delle una giornalista e fotografa molto stimata in Slovenia che parla delle donne di Srebrenica che sono rimaste un po' in questi edifici una sorta di campo profughi un poco più insomma non è una baraccopoli però e vivono vite sospese perché non sanno che cosa succederà di loro allora gli spettacoli vanno avanti io direi che possiamo anche fermarci qua poi proseguire nell'artico delle prossime puntate diciamo nel senso che sicuramente racconteremo un po' a tappe quello che è tutta l'intera manifestazione dei dispaisati che non si concluderà a dicembre oppure ci sarà poi un cammino ulteriore ma no si dovrebbe chiudere a dicembre forse una piccola coda a gennaio ma insomma vorremmo comunque visto che abbiamo iniziato tanto presto forse riusciamo a chiudere a chiudere anche sì insomma teoricamente per programma e quello che si inserirà insomma sono tutte per tutte cose che dovremmo fare tra novembre e dicembre ok un pensiero invece su un'intera manifestazione di quest'anno nel senso un tuo pensiero cioè come direzione artistica e pensata non solamente appunto con gli inserimenti dei spettacoli e quant'altro ma proprio come importante in questo momento perché io credo che da questo momento in poi tutto sia importante io ho questo pensiero nel senso che c'è l'idea di fare finalmente una rinascita e una rinascita per tutto io quindi penso che ogni cosa che io vado personalmente a fare lo vado pensando lo faccio oggi ma pensando a più tempo questo è un po' la mia idea è stupida ma forse sì io sento che quest'anno è uno spa esatti anche questo un po' di transizione no perché a me piacerebbe proprio se vogliamo dirlo per il futuro che spa esatti diventasse forse un po' più dedicato ai temi non solo migratori ma anche ambientali non è greenwashing cerco di però è l'urgenza no di adesso è molto inserito nel dibattito no questo tema e molti migranti sono migranti per ragioni no di cambiamento climatico di insomma inquinamento quindi queste sono le sfide del del domani però è anche vero che per del domani dell'oggi direi insomma ecco se proprio vogliamo essere no c'è una signora precisi dagli eri anche esatto c'è una ragazza che può stare simpatica antipatica a quello che volete però con il suo bla 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 ha terrorizzato il mondo questo mi è piaciuto tantissimo no Greta Thunberg so che c'è tutto un dibattito su prima pagina come viene pronunciato il nome devo dire probabilmente l'ho sbagliato anch'io ma Greta sicuramente è una persona che ha ha voluto e riesce a dare un determinato impulso no se non altro al dibattito però è vero che dopo un po' c'è poco da dibattere appunto è però complesso questo cambiamento non è non è proprio così e tocca tantissimi interessi soprattutto economici e quindi insomma allora questo sicuramente volevo dire che questo tema del futuro mi piacerebbe comunque appunto dare un taglio così vedo che anche gli spettacoli vanno in questa direzione però anche devo dirvi la verità che sono contenta comunque questa edizione comunque riporta sempre alla centralità dell'individuo no della persona e e questo secondo me è molto importante perché è vero che possiamo essere davanti a tutti i cambiamenti epocali ma dobbiamo partire dalla persona al centro cioè altrimenti no cioè dell'essere umano dei diritti umani del rispetto dei diritti umani del principio di uguaglianza cioè nel senso che se poi dopo cioè perché si sa benissimo che ogni azione poi può discriminare l'uno l'altro il terzo quindi veramente di partire da persona umana al centro e cercare appunto di trovare sempre il minimo la comune umanità perché tante volte le discriminazioni nascono perché l'altro non ti sembra no degno di rispetto degno di essere no come te no cioè pensi sempre che appunto quello non c'ha famiglia non c'ha niente no non è così allora è altrettanto importante anche davanti alle sfide del cambiamento climatico no per tenere sempre la persona al centro che è Alan eccoci questa sorpresa nel senso che comunque di solito alla fine di ogni intervista si devono dare indicazioni tecniche quelle cose terrificanti che per questa volta la faremo noi nel senso è a disposizione un critico cinematografico nonché enigvista nonché tutto quello che volete che si presta per noi a dare le indicazioni tecniche che poi sono fondamentali perché c'è ancora ahimè da fare dei piccoli passaggini per poter accedere poi serenamente in sale vai si beh tutti gli spettacoli di cui abbiamo parlato oggi e tutti quelli che poi saranno la continuazione di questa edizione di Spaisati hanno un prezzo di 12 euro 10 euro con le riduzioni convenzionate la prevendita si può fare su vivaticket.com o telefonando allo 040 36 5119 oppure scrivendo a biglietteria chiocciolamiela.it per informazioni sul programma potete rivolgervi a info chiocciolaspaesati.org a teatro chiocciolamiela.it oppure direttamente andando sui siti spaisati.org o miela.it preciso no? Benissimo allora noi ci vediamo sicuramente domani al teatrino Franco e Franca Basaglia per per questi spettacoli della sera e poi anche del pomeriggio di domenica e poi invece ci vediamo io e te e insieme anche a Alan ovviamente in radio per i prossimi racconti e portami Marsella te prego ah certo assolutamente assolutamente se può opera perché non so se lei fa in radio altre trasmissioni lei qua no no lei viene sempre qui sì sì ma no non so se il venerdì ah perché lei c'è la trasmissione in radio in rai però l'abbiamo già fatta è finita qua scappa scappa in rai allora te la porto allora te la mando benissimo grazie infinite grazie a voi grazie a tutti 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 la trasmissione con sold out che si è deciso mio caro mettono 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 perché stavi già controllando te non stavo controllando non stavi controllando il mio ditino non stavi controllando se tiravo su il cursore no stavo pensando ad altro in questo momento va bene va bene comunque come già comunicato Sold Out ha ripreso la programmazione del venerdì per cui ci troverete qui ogni venerdì dalle ore 9.35 fino alle 10.30 per poi dare spazio a tutte le altre programmi di Radio Fragola quasi tu il venerdì è meraviglioso perché sono quasi tutti trasmissioni in diretta abbiamo ripreso l'attività abbiamo ripreso a far venire finalmente i nostri collaboratori qui in radio e questo mi piace assai che meraviglia fammi dire una cosa mi attacco a una delle ultime cose che è stata detta nell'intervista di prima ovvero la mostra sulle profughe di Sebrenica che partirà il 24 novembre attualmente in sala lo trovate qui a Trieste al Cinema Giotto c'è un film che si chiama Quova di Saida diretto dalla regista bosniaca Yasmin Lasbanic che parla proprio di questo era passato a Venezia l'anno scorso in concorso e parla del massacro di Sebrenica raccontato dal punto di vista di una traduttrice che lavora all'ONU che cerca di salvare le persone che insomma stanno cercando di scappare dai bombardamenti ok perfetto quindi lo troviamo in questi giorni lo trovati in questi giorni al Cinema Giotto benissimo grazie mille Ala per questa informazione invece facciamo un lancio di quello che intanto una volta noi facevamo che si arrivava a questo punto dove tu davi le indicazioni sul cosa andare a vedere al cinema durante il weekend sia nel bene che nel male poi ognuno decideva questa cosa l'abbiamo trasferita in una trasmissione l'abbiamo trasformata in una trasmissione che è già andata in onda con la prima puntata sabato scorso e ci sarà anche appunto domani esatto con la seconda puntata in cui vi racconterò anche del film che ho appena citato e la trasmissione si chiama Il buono, il brutto e il cattivo e va in onda alle 11.45 della mattina e in cui appunto vi racconto un po' quelli che sono i film belli e i film brutti da andare o non andare a vedere il cinema che sono attualmente in sala quindi un invito un ascolto che può essere interessante perché uno può decidere tranquillamente appunto cosa cosa puoi andare a vedere durante il weekend esatto un modo carino e simpatico per manco io ai me mi intruffolerò ogni tanto per dire le mie scempiaggini dei film magari che ho visto quindi l'appuntamento non è che non lo facciamo più ma si è trasformato in un vero e proprio programma radiofonico per cui tranquillamente il sabato 11.45 si potrà godere di questo esatto mentre oggi parliamo di un importante festival che si svolge tutti gli anni a Pordenone e che è riconosciuto a livello nazionale per essere tra i migliori riguardanti il cinema muto si ma in realtà anche a livello internazionale perché chi frequenta le giornate del cinema muto di Pordenone si accorgerà che forse c'è molto più pubblico straniero che pubblico italiano alle giornate perché è molto più frequente sentire parlare inglese che sentire parlare in italiano evidentemente è proprio un festival che piace che attira tantissima gente da un po' a tutte le parti del mondo perché effettivamente è un modo per recuperare della cinematografia degli albori che generalmente è difficilissimo da vedere e devo dire che il lavoro dei selezionatori di chi cura le giornate è eccezionale voglio dire che quest'anno c'è una retrospettiva sul cinema coreano e stiamo parlando di cinema coreano muto quindi dal 1899 fino agli inizi degli anni 30 e generalmente il cinema asiatico muto è qualcosa che non si conosce minimamente stupendo mi sono venuti in mente 800 flash in questo momento ma no di solito il cinema muto lo pensiamo statunitense più delle volte qualcosina di italiano qualcosina di europeo dell'Asia non veramente non si sa niente e qua c'è l'occasione di recuperare film di quella cinematografia ci sono tre film australiani scusa ma torniamo un attimo indietro è il coreano dell'inizio del ventesimo secolo insomma che generi questo non non te lo so dire onestamente lo scoprirete perché gli americani meno male nel cinema muto americano sappiamo che è riconosciuto in qualche modo il cinema comico insomma esatto guarda qua il comunicato stampa sottolinea in particolare un melodramma criminale intitolato il pubblico ministero e l'insegnante però ripeto veramente è un programma da scoprire vi invito ad andare a Pordenone fantastico fantastico noi quando partiamo adesso ci mettiamo un attimo d'accordo vediamo un po' le serate cosa ci le serate e i pomeriggi in realtà perché c'è veramente veramente le giornate di cinema muto prendono tutta la giornata si parte la mattina alle nove mi pare nove e mezza e si continua fino alla sera tardi con con gli spettacoli serali che sono quelli un po' più un po' più di prestigio ma in realtà è tutto di prestigio nel senso che veramente si scoprono cose io quando riesco ad andarci e magari vado per vedere una cosa in particolare però poi mi prendo tutta la giornata mi guardo tutto quello che c'è nella giornata e scopro delle cose meravigliose come da tradizione c'è sempre la musica di sottofondo ovviamente sì c'è la musica di sottofondo fatta dal vivo a parte i pochissimi casi in cui il film ha una propria colonna sonora tante volte esistevano i dischi i vinili che venivano abbinati alla proiezione in pellicola per cui bisognava far partire il disco in un momento particolare e c'era la colonna sonora del film ma al di là appunto di questi pochi casi tutto il resto è musicato dal vivo pianoforte flauto violino le sere quasi sempre c'è un'orchestra che musica i film e sono tutte sono tutte esecuzioni fatte dal vivo al momento mentre l'esecutore vede il film è quasi improvvisa su quello che sta vedendo quindi vale veramente la pena andare a vedere queste proiezioni perché hanno un suo fascino sì assolutamente perché poi insomma ripeto sono cose meravigliose vedi come è nato il cinema vedi quelle che sono in nuce tante cose che poi il cinema prenderà farà suo e continuerà a riproporre durante il corso degli anni in tutto il secolo insomma e passa di cinema che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora perché insomma certe idee che arrivano dai primi film sono tuttora attuate e attuali quindi è meraviglioso appunto vedere questo tipo di film scoprire delle cose meravigliose però poi c'era sempre quella cosa del non potendo parlare tutto era e cercando sempre di mantenere poche le didascalie che questo secondo me è un errore che fanno in tanti quando si cerca di imitare il cinema mutuo e di riempire le didascalie non è vero erano pochissime le didascalie ed era tutto lasciato alla mimica facciale delle persone che doveva essere esagerata e quindi hai queste facce di questi attori che sono meravigliosi che strabuzzano gli occhi che fanno le facce che sono bellissime da vedere poi su grande schermo è tutta un'altra cosa chiaro chiaro poi era un mondo un mondo a sé nel senso che poi quando è arrivato il sonoro si è trasformato anche il recitato e di conseguenza ahimè anche gli attori esatto sì infatti non sono pochi i film che parlano proprio di questo del problema degli attori del muto che hanno avuto nel momento in cui è arrivato il sonoro no no veramente è un film adesso ovviamente non c'è il tempo di vedere tutto il programma io vi rimando al sito delle giornate del cinema muto che è banalissimamente giornatedelcinemamuto.it oppure trovate su Pordenone Silent su Facebook e Instagram e anche su Twitter e scoprite cosa c'è andate a vedere qualunque cosa perché qualunque cosa andate a vedere trovate qualcosa di bello benissimo possiamo chiudere qua che dici direi di sì chiudiamo la trasmissione qui è una buonissima chiusa andate al cinema ecco questo è il mio consiglio come si diceva prima bisogna far ripartire i teatri bisogna far ripartire il cinema andate a vedere qualcosa non importa cosa purché andiate in sala e fate ripartire facciamo tutti quanti ripartire questo mondo magnifico beh ancora non è come giustamente dicevamo prima che con Morena non è ancora stato firmato il decreto però tra un po' appunto ci sarà la possibilità all'80% di entrare anche nelle sale cinematografiche per cui stiamo raggiungendo quasi la la normalità insomma esatto per cui veramente vi aspetto al cinema pop corn alla mano come mia tradizione infatti e non perdetevi l'appuntamento di domani con Alan Viezzoli alle ore 11.45 con il buono il brutto e cattivo la trasmissione che vi suggerirà dove poter vedere il film il meglio del film a Trieste nelle varie sale e poi insomma lui ne parlerà nel bene e nel male poi a voi decidere il da farsi noi vi ringraziamo stiamo per dare la linea a questa nuova trasmissione di Radio Fragola per mango perché c'è X c'è la X mango ma è un per mango con i nostri giovanissimi conduttori e poi si va avanti per tutta la giornata con la programmazione di Radio Fragola grazie infinite e buon weekend a tutti ciao ciao